Continua il lavoro del reparto di senologia dell'ospedale Franchini di Sant'Arcangelo, in particolare del dottor Samorani per quanto riguarda la ricerca e prevenzione del tumore alla mamella. Tanto è vero che la vostra equip parteciperà a questo convegno che si chiama Attualità in Senologia che si svolge a Firenze dal 22 al 24 gennaio. Di che cosa si tratta? Si tratta ancora una volta di un riconoscimento molto importante al lavoro che abbiamo fatto in questi ultimi anni e in particolare del riconoscimento ai risultati che sono emersi dal protocollo di studio che noi abbiamo chiuso da poco tempo e ne aspettiamo ora la pubblicazione, i cui dati ci dicono che è possibile localizzare il linfonodo sentinella attraverso una nuova metodica rivoluzionaria rispetto a quella precedente in quanto bassa notevolmente i costi per l'azienda e in particolare alza tantissimo la qualità percepita dalle donne. In effetti si tratta di localizzare il linfonodo sentinella in sala operatoria e non più attraverso quindi l'iniezione fatta il giorno prima di una sostanza radioattiva sottocutanea, in sala operatoria attraverso, dicevo, l'iniezione di una sostanza biologica che immediatamente scorre nel sottocute e raggiunge in 3-5 minuti il linfonodo sentinella. Il linfonodo sentinella quindi viene estratto immediatamente, analizzato e in tempo reale sappiamo se il linfonodo è stato raggiunto dalle metastasi oppure no. A Firenze ogni due anni si celebra questo importante incontro internazionale e quest'anno, grazie proprio a questo protocollo di ricerca che ha raggiunto questo obiettivo insperato, e siamo stati chiamati a relazionare in una tavola rotonda assieme al professor Veronesi proprio sull'oggetto in questione, perché in Italia contemporaneamente sia a Sant'Arcangelo che a Milano nell'Istituto Europeo del professor Veronesi veniva eseguito lo stesso protocollo di ricerca ed entrambi abbiamo raggiunto gli stessi risultati, cioè questa nuova metodica funziona bene. Grazie a tutti.